Vi dico solo, Verstappen è partito diciassettesimo, ha vinto la gara in Brasile, non vinceva da dieci gare, si avvicina ancora di più alla vittoria del campionato piloti perché questa è la classifica in questo momento con Verstappen a 393 punti, mentre c'è Nordisk ne ha 331, mancano tre gare solamente, ci sono 62 punti di differenza, insomma Verstappen sembra aver archiviato il quarto titolo in carriera. Con questa gara in Brasile, una vittoria speciale, McLaren imane prima nel campionato costruttori, guadagna dei punti su Ferrari ma non così tanti perché Ferrari comunque con la posizione di Leclerc, la quinta posizione in questa gara, beh sicuramente ha limitato i danni, però dobbiamo parlare della gara di Verstappen ragazzi, ha fatto qualcosa di clamoroso Max in questa gara facendo diciassette giri veloci, partiva diciassettesimo, ha vinto la gara, quindi grande Max, ha dato una lezione di guida a tutti quanti. Negli ultimi giri girava un secondo, un secondo e tre più forti di tutti quanti, insomma qualcosa di clamoroso, doppio podio anche per Alpine con secondo e terzo Gasly e tanti punti guadagnati per Alpine che si ritrova adesso sesta nel campionato costruttori e una gran mano sicuramente ha dato anche la scelta di Briatore di posticipare gli aggiornamenti, concentrarsi su, portare aggiornamenti che funzionano in pista, l'hanno fatto con Gasly per diverse gare e questa gara qui è stata anche molto fortunata per Alpine che si è ritrovata più forte in condizioni abbagnato rispetto all'asciutto, una gara molto imprevedibile perché ragazzi poteva succedere di tutto ed è successo di tutto effettivamente. Andiamo a analizzare ogni situazione che è successa in gara. Prima di iniziare vi ricordo ovviamente di lasciare un like, di iscrivervi, attivare le notifiche per non perdervi nessun video che c'è qui sul canale, ogni settimana andiamo a analizzare tutte le notizie tema auto e Formula 1 e ovviamente tutte le sessioni anche nei weekend di gara ditemi la vostra su questa gara, secondo voi Ferrari ha limitato i danni nonostante il ritiro di Sainz ma la quinta posizione di Leclerc, come avete visto Ferrari sul bagnato ditemi la vostra nei commenti anche sulla vittoria di Max e sul quarto titolo possibile che ormai è molto probabile che lo vinca Vestappen quest'anno, secondo voi lo porterà a casa Max oppure Norris se riuscirà comunque a provare a mettere in discussione questo quarto titolo di Max e il titolo di quest'anno, ditemi la vostra anche su questo ci sono tantissime cose da analizzare di questa gara, partiamo però dalla classifica che vede Vestappen primo ovviamente con il giro veloce in 1.24 mentre tutti gli altri vede che giravano sul 21 alto, quindi ha fatto un secondo e tre differenza sul giro veloce e ha dato 19 secondi, quasi 20 secondi al secondo che è Ocon, cioè ha fatto una gara straordinaria, Vestappen ha dimostrato il suo talento di guida che già conosciamo da Brasile nel 2016, anche quella gara sul bagnato dove c'è la differenza e anche qui Vestappen sul bagnato è un mostro secondo con, terzo Gasly, quarto Russell, come vi dicevo, quinto Leclerc che si è acceso sul finale con una Ferrari forte quando mette in temperatura le gomme, però prima ha fatto molta fatica perché non riesce a mettere in temperatura le gomme perde il posteriore che è molto scivoloso e abbiamo visto una Ferrari in difficoltà ma nonostante questo ha tenuto dietro sia Norris che Piastri che poi ha ricevuto i 10 secondi di penalità e è scalato in ottava posizione dietro Tsunoda, quindi sesto Norris, settimo Tsunoda, ottavo Piastri, nono Lawson, decimo Hamilton, undicesimo Perez e via via tutti gli altri Hamilton e Perez molto assenti in questa gara con diversi errori da parte di entrambi Ferrari con questa quinta posizione e il ritiro di Sainz comunque ha portato a casa un po' di punti è vero, ha perso qualcosa nei confronti di McLaren, però McLaren era favorita per questa gara e nonostante tutto non è riuscito a massimizzare il risultato anche in pista ma quali sono stati i momenti più importanti di questa gara? sicuramente la ripartenza dopo la safety car al giro 42 dove abbiamo visto un sorpasso straordinario di Leclerc ragazzi ma guardate qui, Leclerc attacca all'interno sia Norris che Russell, guardate, un sorpasso capolavoro Norris tra l'altro va lungo in questo caso, però Leclerc ha fatto una ripartenza davvero ottima e questo è dato anche dal talento di Charles che riesce sempre a massimizzare il risultato in pista peccato per le performance di Ferrari stessa che sul bagnato faccia tanta fatica è la visuale on board, con l'elma e camera davvero non si vedeva niente nonostante ciò Leclerc si infila all'interno, ricordiamo che Ferrari fa più fatica a scaldare le gomme e nonostante questo riesce a fare una staccata incredibile all'interno, fuori traiettoria e a fermare la macchina e a portare a casa un sorpasso incredibile portandosi in quarta posizione davvero, questo è stato un sorpasso alla Leclerc e ha fatto differenza anche sulla macchina in questo caso Charles, quindi complimenti un altro momento importante della gara di Ferrari, se vogliamo, in negativo è stato il ritiro di Sainz, l'errore che ha commesso in condizioni abbagnato qui vediamo Sainz che arriva in prossimità della curva e purtroppo prende questa riga bianca molto scivolosa in condizioni abbagnato era meglio evitare di prendere righe bianche ma di farlo per andare più forte e perde il posteriore e va a muro rompendo poi anche il braccetto della sospensione quindi non gli permette di ripartire peccato davvero per il ritiro di Sainz perché comunque si potevano portare a casa un po' più di punti in ottica anche campionato costruttori un'altra cosa importante, abbiamo visto il pistop fatto da Ferrari a un certo punto con Leclerc che è stato il primo a fermarsi a montare Intermedia Nuova in quel caso è rientrato nel traffico decisione del pilota, sbagliata in quel caso essendo stata una gara talmente piena di colpi di scena non è andata a pesare così tanto poi sulla gara di Leclerc che secondo me è il quinto posto che ha portato a casa è risultato massimo oggettivamente vedendo quello che ha fatto e avendo messo dietro anche le due McLaren quindi quello è stato secondo me il massimo possibile per Ferrari oggi mentre la gara tra Norris e Bestappen dov'è che hanno fatto a differenza i due contendenti al titolo? beh Max è sicuramente in partenza infatti ha fatto una partenza straordinaria partiva a 17esimo perché ha fatto 12esimo in qualifica sappiamo anche tutto il casino che è successo con l'esclusione delle due Red Bull in Q2 e invece le racing boost che si erano qualificate per il Q3 e quindi partiva a 12esimo ma con le 5 posizioni in penalità in griglia per la sostituzione del motore partiva a 17esimo e nonostante questo Bestappen è passato già in partenza dalla 17esima alla nona posizione facendo una partenza davvero incredibile guardate anche già a curva 1 parte molto aggressivo sparsa subito una macchina in partenza davanti che se non sbaglio è una ass poi vediamo qua in curva 1 arriva, stacca all'esterno rimane comunque cauto non vuole infilarsi all'interno non vuole creare situazioni magari pericolose per danneggiare la sua gara però rimane comunque aggressivo rimane comunque deciso qua si posiziona tutto all'esterno e fa la magia in stile Brasile 2016 quello che aveva fatto su Rosberg e riesce a passare tante macchine all'esterno a momenti riusciva a passare anche Hamilton ma gli rimane alle spalle questa è la partenza di Max che ha fatto qualcosa di incredibile già solo qui qual è stato un altro momento importante alla gara? sicuramente sempre in partenza quando abbiamo visto il caso di Stroll infatti abbiamo visto Stroll che ha perso la macchina nel giro di formazione è andato fuori poi è rientrato in ghiai e si è insabbiato errore molto molto grave per un pilota che ormai dobbiamo dire di esperienza però fa questi errori che davvero ci fanno perdere le speranze su Stroll diciamo così non si doveva partire nel senso c'era il semaforo rosso e nonostante questo Norris è ripartito per rifare il giro di formazione infatti c'è l'investigazione sui piloti che sono partiti tra cui appunto Norris, Russell e tutti quanti quelli dietro che hanno seguito il leader in testa ovvero Norris che non doveva partire in quel caso ma doveva rimanere fermo quindi anche qui vedremo un po' come verrà risolto dopo però questo è stato un altro momento importante della gara detto questo abbiamo visto poi che Norris non è partito bene infatti Russell l'ha passato in partenza e Norris si è ritrovato subito alle spalle di Russell e questo ha comportato un po' la prima parte di gara ma uno dei momenti più importanti della gara dove Norris si è fatto fregare tra virgolette anche dalla situazione che si era creata è avvenuto al giro 28 guardate qui al giro 28 stava terminando la virtual safety car perché sappiamo che Hulkenberg era uscito fuori di pista inizia a dato la virtual safety car per quello che era successo beh in questo caso c'era l'ending quindi stava terminando la virtual safety car e sia Russell che Norris hanno deciso di rientrare ai box in questo caso invece dovevano rimanere in pista perché dopo è andato bandiera rossa con Hulkenberg che è stato poi squalificato con la bandiera nera perché i commissari lo hanno spinto in pista e questo è un errore più da parte di Mercedes McLaren che da parte dei piloti però anche i piloti potranno decidere di rimanere in pista tant'è vero che Russell si è arrabbiato con il suo team a riguardo ha detto cavolo io ho detto che dovevamo rimanere in pista perché in questo caso sarebbero ritrovati in testa e potevano giocarsela di più anche dopo la bandiera rossa con la ripartenza e tutto quanto sia con Ocon anche con Vestappen e Gasly e tutti quanti gli altri che invece non si sono fermati hanno azzardato e sono rimasti in pista questa è stata un po' la decisione ovviamente c'era un time frame molto breve nel senso c'erano pochi secondi a disposizione per i team per decidere se rientrare o meno fatto sta che le condizioni stavano peggiorando e lì con l'intermedia lì aveva già fatto 28 giri quindi hanno deciso di fermare i piloti là davanti lì hanno sbagliato purtroppo è stato un errore grave però l'occasione Norris ce l'ha avuta più volte anche questa gara di ribaltarla e cercare di stare là davanti però Vestappen è stato più bravo in questo secondo me rispetto a Norris c'è anche di un'altra cosa sul discorso della bandiera rossa secondo me hanno fatto bene a darla al di là di Tsunoda e la scelta di montarla full wet e tutto quanto perché la visibilità era davvero scarsa cioè essendoci poca visibilità si può dire quello che si vuole si può magari dire che hanno avvantaggiato dei piloti rispetto ad altri che hanno fatto una strategia diversa montando la full wet però per questioni di sicurezza io penso che sia giusto che abbiano dato la bandiera rossa in quel caso abbiamo visto diverse situazioni già in passato quando c'è poca visibilità quando anche i piloti si lamentano perché tutti i piloti si erano lamentati le clerk compreso con la federazione per quanto riguarda la visibilità è un tema importante è vero che uno dice ma la full wet non la usi mai allora perché quelle lì erano le condizioni ideali per quella gomma e allora non vai mai a usarla questa discussione è già successa a Suzuka 2022 se vi ricordate il tema della full wet del muro di acqua che viene sollevato dalle macchine effetto suolo come queste è un tema che è di discussione purtroppo con queste macchine effetto suolo che vanno a sollevare tanta acqua nella parte posteriore vanno a generare poca visibilità per l'auto che segue quindi l'idea è mettere dei paraspruzzi sulle ruote posteriori che hanno già testato più volte finché non viene approvata quell'idea lì dei paraspruzzi e non viene risolto il problema della visibilità non si può fare altrimenti quindi in quel caso lì è stato giusto dare la bandiera rossa dico solo una cosa sul motore di Leclerc secondo me vedendo una gara sul bagnato così complicata con tanti piloti come Vestappen che ha vinto la gara partendo il 17esimo a questo punto potevano anche in casa Ferrari sostituire il motore di Leclerc e farlo partire in fondo perché così magari aveva un motore nuovo per le ultime tre gare a stagione e giocarti a darmi pare il campionato costruttori con McLaren questa era un'idea ovviamente in Ferrari hanno deciso di non farlo vedremo come si comporterà anche il motore di Leclerc nelle prossime tre gare questa è la classifica attuale costruttori e piloti Vestappen in prima posizione 393 punti su secondo Norris 331 ormai il mondiale secondo me piloti è già di max dopo anche la gara di forza vatto oggi Norris è un po' più demoralizzato io penso anche a livello mentale mentre cambiato costruttori vediamo McLaren 593 Ferrari 557 quindi ha guadagnato 12 punti McLaren Ferrari ha guadagnato 10 però ci può ancora sperare Ferrari Las Vegas è una pista pro Ferrari Qatar sarà più pro McLaren e Abu Dhabi se la giocheranno entrambi i team vedremo un po' non è facile perché McLaren comunque rimane favorita per i costruttori però Ferrari può giocarsela e se avesse sostituito magari il motore oggi su Leclerc e Leclerc sarebbe arrivato in top 10 perché sicuramente in top 10 ci arrivava anche con un motore fresco poteva magari avere un motore più pronto per le prossime gare e con meno problemi meno problemi anche del lift and coast che abbiamo visto tante volte fare è vero anche che Brasile è una pista che è a 700 metri a livello del mare quindi c'è un'aria più rare fatta e devi lavorare di più sul motore per raffreddarlo eccetera eccetera e ultimissima cosa dobbiamo andare a vedere ovviamente le immagini di Hamilton sulla McLaren di Senna del 1990 che ha fatto questo giro importantissimo per Lewis importantissimo per Ayrton che celebra i 30 anni dalla morte di Senna nel 1994 e è stato bellissimo vedere Lewis che alza la bandiera brasiliana cioè qualcosa di incredibile e mi ha molto emozionato ha emozionato anche molto Lewis e questo momento qua rimarrà scritto nella storia un momento indimenticabile sia perché Lewis si è avvicinato alla Formula 1 grazie a Senna come tanti tanti di noi devo dire anche un'ultimissima cosa ragazzi dobbiamo fare i complimenti a tutti i meccanici a tutti i team abbiamo visto i meccanici che ha lavorato tanto sulle monoposto perché sono stati tanti danni tanti piloti sono andati a muro condizioni al limite Williams che è andata a muro con entrambi i piloti più volte insomma è stato un weekend molto complicato per tutti però nonostante tutto l'hanno portato a termine ditemi anche voi come avete visto la gara se volete commentare altri momenti salienti della gara stessa ditemelo ovviamente nei commenti come vedete anche i campionato costruttori e i piloti io vedo Vestappen ormai super favorito per i mondiali piloti anche a livello di mentalità lo vedo superiore a Norris è partito diciassettesimo e l'ha vinta Norris partiva davanti e non è riuscito invece a vincere la gara quindi neanche e non è neanche arrivato davanti alla Ferrari di Leclerc quindi insomma davvero una prestazione non all'altezza di Lando dal mio punto di vista e ditemi anche sul campionato costruttori se Ferrari può ancora sperarci e farcela per queste ultime tre gare che mancano Las Vegas Qatar e Abu Dhabi per vincere il campionato costruttori se potrà farcela o meno sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti vi ricordo ovviamente di lasciare un like di iscrivervi attivare le notifiche per non perdervi nessun video che c'è qui sul canale ogni settimana andiamo a commentare tutte le notizie a tema auto e formula 1 ovviamente vi lascio altri video correlati qui e logo il mio canale qui al centro per iscrivervi qui da questo è tutto ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video